Grazie a tutti i presenti per aver partecipato a questo nostro annesimo appuntamento che rientra in quella serie di iniziative che noi abbiamo chiamato Incontri Filosofici sul pensiero ateo. Oggi parleremo di un filosofo che ha segnato, sì, dopo la presentazione dell'UA, organizzata dal circolo locale dell'UA, Unione Ate e Agnostici Razionalisti, l'unica associazione italiana che racchiude le ragioni degli ati e degli agnostici italiani e si prefigge lo scopo di salvaguardare e difendere i principi laici della Costituzione italiana e il diritto di non credenti, non solo, ma anche nello statuto dell'associazione, anche diciamo tutte quelle persone discriminate da quel radicalismo religioso, possono essere dai ricercatori scientifici agli omosessuali, quindi si parte anche per il riconoscimento dei matrimoni omosessuali. Sono tantissimi i punti che contraddistinguono la nostra azione, potete trovarli poi nel sito nazionale e il nostro del circolo di Osi Mancona, nel volantino alla brochure che è stata distribuita, questo per chi non conosce la nostra associazione. Ritornando all'incontro di oggi, Silvio Fatto Bene oggi relazionerà il pensiero, parte del pensiero perché è vastissimo, di Nietzsche, in particolar modo riferito al suo approccio critico al cristianesimo e a quel nichilismo di cui il cristianesimo non è parte e componente che ha portato alla disgregazione di quei valori vitali a cui invece Nietzsche con il suo agere politico ha tentato di riportare la filosofia, una filosofia che secondo lui si era interrotta, era finita con la prima filosofia greca, quella fino ai presocratici e che poi da sacro tempo in una serie di generazioni che Silvio ci relazionerà ha portato a questa dissoluzione di tutti i valori vitali della filosofia e dell'uomo, del pensiero. Infatti Nietzsche a un certo punto ebbe questa felice definizione di definire il filosofo sia artista, interprete e valutatore della vita in tutte le sue funzioni vitali. Forse non ci è riuscito per una serie di motivi, la malattia, la morte, poi sopraggiunta, un tentativo che tantissimi filosofi nel novecento hanno tentato di portare avanti, appunto un saggio di Deleuze, il filosofo francese, Michel Foucault e tanti altri filosofi hanno tentato di portare a termine questa missione filosofica. Non perdo altro tempo perché poi lasceremo spazio al dibattito finale, sono molti gli interventi anche da parte dei miei altri parati, quindi lascio subito la parola a Silvio Fattovene. Grazie a tutti quanti per la presenza e per l'attenzione. Cercheremo di muoverci in tempi abbastanza rapidi, come dicevamo, sia per privilegiare il dibattito, quindi il dialogo piuttosto che sia per il monologo e sia per un discorso proprio strutturale, nel senso che il pensiero di Nietzsche è un pensiero particolare, si inserisce all'interno del contesto filosofico in maniera atipica, nel senso che Nietzsche non filosofa come la tradizione filosofica ci ha insegnato, il suo modo di fare filosofia è particolare, forse unico e questo crea notevoli problemi di tipo sia interpretativo che di tipo espositivo, nel senso che per capirsi realmente quando si parla di Nietzsche è necessario adottare un sistema di pensiero, che è quello che lui vuole propagandare come più efficace, come migliore, che deve essere prima discorso, deve essere ragionato, deve essere quantomeno esposto. Noi chiaramente in tempi abbastanza brevi cercheremo di affrontare quei concetti più semplici, semplici non vuol dire meno importanti, ma vuol dire meno complessi, che non presuppongono poi discorsi troppo complicati all'origine e cercheremo in particolare di mantenerci all'interno di quella che è la parte della filosofia che forse più interessa a questo tipo di associazioni, a questo tipo di eventi. Nietzsche infatti è famoso come critico in generale di tutta la cultura, ma critico della metafisica e della religione. Noi quindi cercheremo di muoverci all'interno di questo spazio e parleremo per lo più di come la morale, la metafisica e il Dio vengono messi in discussione da Nietzsche e di come la sua filosofia si relaziona con questo tipo di concetti. Non potremo chiaramente ripercorrere tutte le tappe del suo pensiero, anche perché questo forse non è il nostro obiettivo quest'oggi e dovremo rinunciare, perlomeno in parte, a affrontare quelli che sono gli scenari che si aprono dopo questo tipo di distruzione. Distruzione nel senso che, per me è più corretto, decostruzione, decostruzione del mondo occidentale, della nostra cultura, che Nietzsche compie all'interno di alcune sue opere in particolare, ma in generale in tutto il suo pensiero. Noi quindi cercheremo di analizzare questa ricostruzione, rimandando magari a un'altra occasione il dibattito sulla costruzione di un qualcosa di nuovo, su come è possibile costruire e se è possibile. La complessità del pensiero di Nietzsche si evidenzia già nel suo modo di scrivere, che è un modo di scrivere particolare, tipico di pochi filosofi nella storia della filosofia occidentale, un po' più diffuso in altre parti del mondo, che è la scrittura foristica, ovvero scrivere non in maniera discorsiva, non discorsi secondo un modo di spiegarsi scientifico dimostrato, ma un modo di scrivere basato sulla frase breve, sulla dichiarazione istantanea, quindi un modo di scrivere molto cursorio, fatto di frasi brevi, di riflessioni che non vengono contestualizzate e possono andare dalle poche parole alle due, tre, le quattro paginette di libro. Questo solleva notevoli problemi di tipo interpretativo perché si dice di Nietzsche che egli abbia detto tutto e il contrario di tutto. Questo in parte è vero perché non mancano punti del suo pensiero dove ci sono contraddizioni, quindi proprio contraddizioni esplicite, posizioni in cui adotta prima una posizione per un'altra, a questa non solo non è una drammaticità, non è qualcosa da drammatizzare, ma addirittura è la peculiarità del suo sistema filosofico, del suo sistema di approccio al pensiero che fa di Nietzsche quel decostruttore della cultura occidentale, della cultura dell'Ottocento, che lascia poi i posti in realtà pesanti, come dicevamo, di costruire su un mondo decostruito. Quindi cercheremo in generale di muoverci un po' in superficie, sempre tenendo presente che molte delle cose che andremo a dire potranno essere, se viste da un'altra parte, contraddette, se viste con un'altra prospettiva potranno essere ribaltate e non mancheranno i passi in cui Nietzsche si schiererà prima da un lato che dall'altro. Dicevamo che quello di Nietzsche è una critica di Dio in generale, perlomeno questo è quello di cui parleremo noi oggi, ovvero di Dio inteso non come il Dio cristiano, piuttosto che il Dio di altre confessioni religiose, ma come quell'essere supremo che non importa tanto a livello esistenziale, cosmologico, ma a livello morale, cioè quell'autorità che impone una serie di precetti, una serie di norme morali da rispettare e che condiziona la vita dell'uomo. E quell'entità che viene ripenuta altra da questo mondo, quindi distaccata da esso, che prescrive le proprie leggi a questa realtà andando a incidere profondamente sulla condotta di ciascuno di noi. Quindi vedremo da subito come Nietzsche la critica di Dio, della morale, della religione, della cultura occidentale nel complesso, assumono un tratto di unione e tutto sommato si riconducano a un'unica critica che è quella che in generale lui fa nella filosofia che lo ha preceduto, salvando pochi filosofi. Parte con la tradizione presocratica, c'è un occhio di riguardo per l'eraclito e c'è l'apprezzamento per alcuni concetti sparsi con l'alcum, di Spinoza, farà suo qualche modo di interpretare la realtà che è radicante, eccetera. Quello di Nietzsche è tra l'altro un pensiero che non parte da dei presupposti certi e non vuole arrivare a una meta ben definita, ma è un pensiero che strada facendo indaga gli aspetti della realtà, della cultura che gli si presentano e quindi si intreccia anche strettamente con la vita che questa persona conduce, una vita anch'essa molto particolare, fatta di solitudine in gran parte, fatta di eccezionalità, lui diventa professore di filologia non ancora laureato per la sua abilità, per le sue capacità, diventa filosofo successivamente non perché abbia studiato, perché si sia formato all'interno di qualche accademia, università o perché si sia inserito all'interno del dibattito contemporaneo, diventa filosofo quasi per un'esigenza personale che è quella di sputar fuori tutto ciò che in un certo senso lo avvelena, tutto ciò che lui ha da criticare, da dire a quella sua società contemporanea e non ci sono, non mancano interpreti che collegano la filosofia di Nietzsche e ciò che lui dice a quella che è la sua condotta di vita e in particolare a quella che è la sua malattia, infatti diventerà pazzo, diventerà di essere sano, sostanzialmente molto giovane, quindi a 45 anni e di lì in poi condurrà una vita sempre più dimenticata, salvo poi diventare famoso dopo la sua morte e non è da escludere che la sua malattia, lui infatti soffriva di migrani, di attacchi di vomito, di stati di debolezza, di astenia cronica, non è da escludere che siano collegati al rapporto che lui ha con la filosofia che maschica, con la filosofia con la quale ha contatto e che critica. Questo per dire che cosa? Per dire che non bisogna aspettarsi da Nietzsche è un discorso compiuto, compiuto nel senso di sistema, esattamente, proprio perché Nietzsche è un filosofo che vuole negare la possibilità di fare sistema in filosofia e vuole dimostrare come la volontà di sistema di fatto sia un escamotage per propinare, per propagandare alcuni valori che lo giudica artificiosi e non corrispondenti alla verità. Quello della verità poi è un concetto particolare che dobbiamo in maniera preventiva affrontare perché Nietzsche nega l'esistenza della verità in un senso che non vuole essere negazione come facendo gli scettici della possibilità di intendersi. Per lui critica la verità vuol dire negazione del fatto che esistano verità assolute svincolate da questa realtà che siano trascendenti, quindi di un mondo dell'aldilà e che dell'aldilà condiziona nel mondo dell'aldilà. C'è un aforisma inedito di una serie di aforismi suoi pubblicati postumi, un aforismo di questi dice che per lui la verità non è altro che la posizione reciproca di diversi errori, quindi tutti sono errori e non ci sono verità e di conseguenza tutti gli errori possono essere al contempo verità. Questo quindi in un modo di pensare che viene definito da lui stesso in un braio di passi, ma per lo più dalla critica, prospettivismo, quindi quella filosofia che capisce che non esistono punti di riferimento certi, non esistono fatti, come celebra un suo passo molto famoso, ma solo interpretazioni, solo prospettive e di conseguenza bisogna rinunciare alla volontà di raggiungere una verità ultima e indiscutibile, universale, ma bisogna capire che la verità ha senso esclusivamente come fenomeno sociale, come fenomeno convenzionale. Questo della convenzionalità e dell'importanza dell'utilità sociale della verità è un problema che inisce e coglie sin da giovane quando ancora le veleità filosofiche erano veleità in un'opera non pubblicata nel 1973 che si intitola su verità e menzogna in senso extramorale. In quest'opera lui illustra come il nostro concetto di verità, la nostra parola, il nostro linguaggio, la nostra logica non siano altro che il frutto di una serie di approssimazioni logiche, di approssimazioni anche matematiche, di convenzioni che ci portano a interpretare la realtà in un modo diverso da come questa realtà è. Nietzsche riconduce poi questo discorso alla lotta per la sopravvivenza, nel senso che la sua teoria di fondo è che l'uomo elabora il sistema di pensiero logico, il ragionamento, il linguaggio per condurre una lotta per la sopravvivenza che gli animali conducono con le zanne, con le unghie e che l'uomo ha la necessità di condurre con altri strumenti come l'intelligenza. In detto di questo iniziano una serie di errori, che Nietzsche poi definirà errori metafisici, che sono quelli di pensare che il tempo sia lineare e quindi se ci sia un inizio ci debba essere una fine, se c'è stata una fine ci debba essere stato un inizio, che esistono dei soggetti, ovvero delle unità ultime alle quali in definitiva è riconducibile ciascuna persona. Altri errori sono l'idea che ci sia libertà di volere, cioè che noi autonomamente siamo in grado di decidere ciò che vogliamo e non ciò che non vogliamo, e su questo poi ritorneremo, e quindi tutta una serie di approssimazioni, anche il fatto che noi chiamiamo allo stesso modo oggetti differenti per il fatto che sono simili, quindi di fatto approssimiamo la realtà che ci si presenta davanti, il fatto che noi un oggetto lo chiamiamo allo stesso modo nonostante il passare del tempo ne modifichi la struttura, ne modifichi la fattualità. Ecco, tutti questi errori secondo Nietzsche non sono affatto un problema, perché chiaramente lui non vuole sostenere che bisogna abbandonare il linguaggio come noi lo conosciamo. Lui vuole semplicemente dimostrare che tanto la verità quanto la menzogna sono necessarie per la vita dell'uomo. Ecco, in questo caso menzogna sarebbe questo, il fatto che interpretiamo la realtà secondo delle convenzioni. Diamo quello che inizialmente è un impulso ottico, si traduce in uno stimolo nervoso, si traduce in un pensiero, in un'idea, a questa idea noi colleghiamo un concetto delle lettere, una parola, questa parola la trasformiamo in voce e poi la chiamiamo verità. Ecco, Nietzsche vuole dimostrare che all'interno di questo processo c'è una umanizzazione di tutto ciò che accade, che non può che essere una delle tante prospettive che potrebbero essere diverse. Quindi il prospettivismo in definitiva si riduce a questo concetto che è prospettico il nostro mondo sul quale, tra virgolette, siamo tutti d'accordo. E in ultima analisi tutte le differenze di divisioni, di tutte politiche, etiche, sociali, eccetera, si riconducono sempre al fatto che esistono prospettive diverse, che ognuno, in base alla propria storia, al proprio essere, al proprio ambiente sociale, alle contingenze, è portato a vedere in un modo la realtà rispetto ad un altro. E addirittura che ogni persona veda la realtà in modi differenti, la interprete in modi differenti, a seconda del contesto, del periodo all'interno del quale si trova. Tutto questo è il preludio di una critica che Nietzsche muoverà nei confronti della metafisica occidentale, in particolare i suoi grandi nemici sono Socrate e Platone, colpevoli di aver creato un mondo dietro il mondo, quindi quel mondo che sta nell'aldilà e che è più importante del mondo dell'aldiqua, colpevoli di dire la verità, di ragionare secondo pretese di verità. Ah, certo, certo. Ecco, quindi condurrà questa battaglia, questa critica, che sostanzialmente lo accompagnerà nel corso di tutta la sua speculazione filosofica, ma si concentra in quelle opere che vanno dal 78, quando lui scrive Umano troppo umano, fino all'82, ma in realtà l'84, quando conclude l'ultimo libro della Gaia Scienza, e quindi quelle tre opere che sono Umano troppo umano, Aurora e la Gaia Scienza, che vengono definite opere illuministiche. Illuministiche perché Nietzsche in questo caso adotta lo stesso sistema di ragionamento di questi grandi sistemi filosofici che lui vuole distruggere, quindi una criticità, uno spirito critico, estrema scientificità, la dimostrazione, la ricerca della verità, proprio per dimostrare come questi sistemi siano basati su non verità, su menzogne convenzionali. Ecco, questo è un processo che viene definito da Gianni Vattimo in un libro che tra l'altro è molto consigliato per chi volesse avvicinarsi al pensiero di Nietzsche, la autosoppressione della morale. È un concetto molto importante che va a braccetto col concetto di morte di Dio e si riassume nella morte della morale a causa della morale stessa. Il concetto di Nietzsche è questo, la morale, come noi la conosciamo, quella tradizionale, ci impone un obbligo di verità. Sostanzialmente tutti i grandi sistemi filosofici, religiosi, occidentali, chimici e critica partono dal presupposto che la verità sia fondamentale, cioè che ciò che debba muovere l'uomo sia la ricerca della verità, che senza di essa non si possa arrivare a capire il mondo e senza capire il mondo non ci si possa comportare in modo giusto e senza comportarsi in modo giusto non si possa essere felice. Ecco, quindi questa esigenza di verità, che Nietzsche ritiene sia stata piccata come un fuoco da Socrate per duemila anni circa, prima della sua nascita, nella nascita di Nietzsche, condiziona tutta la nostra speculazione filosofica. Nietzsche cosa fa? Decide di adottare questo sistema di pensiero, basato sulla ricerca della verità, e in maniera critica, con un lavoro di fino, di fatto di migliaia di aforismi, arriva a dimostrare come, dicevamo prima, come queste verità che questi sistemi filosofici si propongono di dimostrarci in realtà sono basate su non verità, cioè sul fatto che si parta da presupposti che la realtà ci dimostra essere differenti, ovvero il fatto che esista un soggetto unico, ovvero il fatto che esistano essi di causa-effetto, il fatto che il tempo sia lineare, che esista libertà del volere, eccetera. Tutti questi sono concetti molto complicati, che per certi versi è anche difficile pensare di mettere in discussione, non è possibile affrontarli nel dettaglio ognuno, quindi cerchiamo in linea di massima di dire due paroline su ognuno di questi. Nietzsche, in questa marea di aforismi che scrive, cerca di dimostrare per esempio come l'io, l'ego, ciò che noi riteniamo essere il soggetto, la nostra soggettività, non è che è un palcoscenico sul quale si combattono, lottano forze distinte che fanno di noi esseri non unici, ma composti, non semplici, ma compositi. Cioè quella pretesa di semplicità dell'io, quando noi diciamo io voglio, io faccio, io sento, io penso, in realtà per inizio è riconducibile a una somma di forze che spesso sono in contrasto tra loro, e questo si manifesta quando l'io è tormentato, quando l'io è lacerato, tra più ipotesi, tra più sensazioni. Ecco, secondo Nietzsche questa complessità dell'io ci deve far riflettere sul fatto che ciò che noi chiamiamo io non è che uno strato superficiale e che in fondo ci sia un abisso abitato da queste potenze, da queste nostre particolarità che combattono tra di loro. Ecco, quindi, di conseguenza tutti quei meccanismi basati sul concetto di io, di anima, eccetera, vengono messi in discussione. Un altro concetto è quello di quelle verità logiche che noi adesso assumiamo come fondamentali, ma che in realtà non sono dimostrate. Ecco, potrebbero essere vere, però quello che vuol dire Nietzsche è che se noi decidiamo che la verità deve essere il nostro criterio interpretativo, non possiamo accettare nulla che non sia vero. E allora viene da chiedersi, quando alcuni filosofi ragionano in un certo modo, da dove traggono le verità necessarie per ragionare in quel modo, come sempre su tutti. La prova ontologica, il ragionamento di San Tommaso, che è proprio anche di altre filosofie, che è riassumibile in questi termini, ogni cosa che esiste deve avere una causa, altrimenti non potrebbe esistere. E già qui c'è un dato non dimostrato. Se ogni cosa esiste deve avere una causa, anche quella causa dovrà avere una causa e così via, considerando che non è possibile andare all'infinito perché ci deve essere un inizio, e qui abbiamo un'altra cosa data per scontata ma non dimostrata, deve esistere una causa incausata, che quindi esiste, perché deve esistere, ma ci viene da chiedere questo deve chi lo ha imposto nel ragionamento, e questa causa deve essere Dio, perché Dio è perfetto. Allora tutto questo modo di ragionare, dove tutto viene dato per scontato come dovuto e non dimostrato, potrebbe essere vero, dice questo non vuole dimostrarlo, ma non è coerente con quella ricerca di verità che caratterizza i sistemi filosofici di cui stiamo parlando. Allora questo è, come dicevamo, il modo di mettere in discussione il messo di causa-effetto, il fatto che tutto debba avere una causa e non esistano esseri incausati, eccetera, eccetera. Un ultimo esempio che è fondamentale per andare ancora oltre è quello della libertà del volere, che è un concetto molto molto delicato, affrontato tra l'altro da molti filosofi, anche il precedente a Nietzsche, da Schopenhauer, da Spinoza, da Leopardi. Specialmente da Schopenhauer, perché Nietzsche prende proprio da Schopenhauer, non prende la Leopardi, ma prende la Schopenhauer. Certo, io intendevo dire che anche Hobbes, una filosofia molto basata su un determinato intermeccanicistico, quindi anche lui parlerà di negazione della libertà del volere, lo stesso farà Spinoza, lo stesso farà Nietzsche, tanti altri dopo e diversi altri ne ho fatto prima. Però ecco, la peculiarità di Nietzsche, ancora una volta, è nelle conclusioni alle quali si arriva dopo questo tipo di constatazione, ma nello specifico quello che mi premeva sottolineare è il modo in cui Nietzsche cerca di dimostrare questa mancanza di libertà del volere. è un concetto che può lasciare un po' spaisante, perché ognuno, forse quasi tutti, ritengono di essere artifici delle proprie azioni. E questo è vero, nel senso che Nietzsche non vuole negare che ciò che facciamo lo facciamo per un atto di decisione nostra, non vuole negare la libertà di agire, ma semplicemente vuole andare un passettino indietro e dimostrare come dietro le nostre azioni ci sia una volontà, ciò che ci spinge ad agire in quel modo, che non è libera, nel senso che non siamo noi che decidiamo di voler amare una persona, non siamo noi che decidiamo di voler pensare in un certo modo, non siamo noi che decidiamo di avere inclinazione da un lato piuttosto che da un l'altro, e quindi tutte queste caratteristiche che influenzano il nostro modo di agire non sono libere, cioè non si può voler volere, non c'è la possibilità di fare questo. Di conseguenza la nostra volontà non è libera. Allora questo serve a Nietzsche per andare, come dicevamo, a mettere in discussione questi grandi sistemi filosofici, e questa è un'altra parte molto interessante, andare a cercare di creare un mondo, una volta decostruito questo, dove ci si relazioni con la realtà in maniera più moderata, diversa, dove si cerchi di eliminare i concetti di peccato, di colpa, di responsabilità, o meglio si cerchi di eliminare il concetto di colpa sostituendolo a quello di responsabilità. E la cosa che sorprende è che gran parte di ciò che Nietzsche può costruire dopo questo mondo, diciamo, distrutto, si collega in parte a ciò che diceva Cristo, a quel messaggio di non giudicare perché addio, aspetta il giudizio finale, quindi di questo chiaramente si collega al discorso del prospettivismo, cioè l'idea che qui tra di noi non esista un punto definitivo dal quale giudicare, ma bisogna inviare a qualcosa di altro. Scusi, questo termine è il prospettivismo, si, Nietzsche non lo nomina. No, Nietzsche lo nomina, un aforismo della scienza, nel terzo libro mi pare, adesso non ricordo bene, però è il termine che viene utilizzato dai manuali, ma anche da Vattimo o da altri, per indicare questo modo di fare filosofia, cioè la creazione di prospettivi. Ci sarebbe anche il fallibilismo di Peirce, il fallibilismo di Peirce dice che la scienza va avanti a furia di errori e ogni errore porta avanti la civiltà. Sì, questo però è un discorso che non si collega in maniera perfettamente calzante a quello che stiamo dicendo per questo motivo. La volontà di Nietzsche non è quella di dire che dall'unione di tutte le prospettive o dalla creazione di prospettive sempre nuove si arrivi a una verità ultima, è proprio la negazione di questo fatto. Allora tutto ciò che... No, no, non è una verità ultima, non esiste verità ultima, esiste la possibilità di andare avanti, infatti lui sebbene critichi Darwin, lo critica perché non lo interpreta bene, perché attribuisce a Darwin il fatto che la filosofia di tipo nazionalsocialismo bisogna ammazzarsi, mangiarsi uno con l'altro come fanno gli animali e solo così la civiltà può andare avanti. Questo lo diceva nello stato greco che poi prende una contraddizione formidabile alla fine perché all'inizio parla della tragedia nella cui vive l'umanità e poi va a finire accettando lo stato del Kaiser, lo stato di guerra e dice voi non volete la guerra perché avete paura della guerra e c'è una contraddizione formidabile, quello è lo stato greco che bisognerebbe leggere, è importante, dopo le cinque conferenze arriva una serie di cinque prefazioni, tra cui lo stato greco ed è molto importante, come la terza conferenza è importante perché la terza conferenza racconta come lui parli male di tutti i suoi colleghi, poi si è stato cacciato. Sì, sì, io forse mi sono spesso male, quello che intendevo dire. E quindi ne viene, diciamo, quella giustificazione della vita successiva. Sì, sì, questo è un discorso che sarebbe interessante affrontare, però un po'. Io invidio a lei, che ha molte parlantine e parla bene, perché io purtroppo ho 83 anni, non mi riesco a considerare che Nietzsche prende tutto da Schopenhauer, non soltanto qualche cosa, la ville, la volontà è, permettiamo che io sono una pianta, io ho bisogno dell'acqua, ho bisogno della terra, ho bisogno della luce del sole e questa è la volontà degli uomini, delle piante, degli animali, di tutti quanti, una volontà che copre tutto. Contrariamente a Nietzsche Penhauer, lui ci inventa la volontà surmach, la volontà di potenza, per cui noi possiamo andare avanti questa volontà, per cui noi siamo come le piante, noi non possiamo dire io do un pugno a questo signore perché voglio e poi sono colpevole perché gli ho dato un pugno. noi abbiamo tutti la stessa volontà come le piante, come gli animali, come tutto, questo dice Nietzsche e questo ci porta fuori dalla volontà, è importante che la volontà è fuori di ragione, per cui prima di Schopenhauer si sono inventati la volontà, i sacerdoti monoteisti, i sacerdoti ebrei della Bibbia, per cui noi cerchiamo la volontà di forza, dice Schopenhauer, noi cerchiamo la forza della nostra volontà, non cerchiamo la ragione, per cui noi ci inventiamo il miracolo, perché quel miracolo... l'unica cosa che mi prevedere è che bisogna fare attenzione... Scusa che ho 83 anni... No, ma guardi che è il dibattito... Abbiamo anticipato un po' il dibattito... Tutti parlano... Vuol dire che la sua partecipazione, la ringrazio... L'unica cosa è che purtroppo questi sono aspetti della filosofia che sarebbe interessante affrontare, ma resta un po' più difficile anche a livello di tempi, ci sarebbe da riflettere su come Nietzsche non voglia fare un discorso di orologio, cioè di un mondo dove noi siamo dei burattini che non assistono a nulla. Questo è un determinismo tipico di altre filosofie, forse di quella di Spinoza, in parte di quella di Hobbes, che Nietzsche critica, tra l'altro c'è un aforisma del diante della sua ombra, il fatalismo turco, dove Nietzsche si esprime proprio in maniera contraria per evitare che il suo ragionamento sia inquadrato come quello dei suoi predecessori. E questo riguarda quella parte di filosofia che si crea dopo la decostruzione, cioè come bisogna comportarsi? Una volta che ci rendiamo conto che queste certezze vengono meno. Dicevamo quindi queste certezze, le ripetiamo per ripiogare, la mancanza di un io, l'esistenza di un io ultimo. Su questo c'è un aforisma molto interessante di umano troppo umano, la morale come autoscizione dell'uomo, in cui Nietzsche dimostra come l'uomo di fatto si comporti sacrificando a volte una parte del proprio io per un'altra parte. E questo penso sia una cosa che tutti possano sperimentare o aver sperimentato nella propria esistenza. Ecco, in questo modo Nietzsche vuole arrivare a sopprimere la morale come fondamentale esigenza di verità negando che questa sia basata sulla verità. Cioè quella ricerca del fondamento che Nietzsche non trova all'interno di questi sistemi. E il problema non è che manchi il fondamento perché neanche Nietzsche sarà in grado di darne uno. Il problema è che queste filosofie si propongono di accettare solo ciò che sia fondato. E allora direbbe Wittstein se il vero è ciò che è fondato, il fondamento non deve essere né vero né falso. Cioè non c'è la possibilità per nessun sistema filosofico di trovare un fondamento che non sia fondato, o meglio che non prescinda dall'idea che ci sia una verità e una falsità. E questo Nietzsche lo critica a queste filosofie in questo procedimento che Vattimo chiama autosoppressione della morale. E va a braccetto col concetto di morte di Dio. Questa diciamo è una distinzione tra le due cose che alcuni autori fanno, altri no, per ognuno per la peculiarità di questa filosofia interpreta in un proprio modo o conduce ragionamento in un proprio modo. Però ecco Vattimo si sofferma su questa distinzione tra la morte di Dio e la soppressione della morale dove vuole collegare la prima a questo discorso di logica e di verità. E la seconda, la morte di Dio, ha un discorso di violenza, di violenza e di menzogna. Qual è la tesi di Nietzsche? La tesi è che l'uomo faccia i conti con una realtà dura, caotica, assurda, caratterizzata dalla frustrazione, che si verifica quando ciò che accade fuori non è conforme a ciò che noi vogliamo che accada. Ecco, e questa frustrazione ci porta a cercare le consolazioni. Queste consolazioni da sempre, studiando oggi, la storia ci dimostra, che sono collegabili in gran parte con la produzione religiosa, con la produzione mitologica delle varie civiltà. E quindi secondo Nietzsche la morale e la Dio come garante di questa morale nascono per autoconservarsi, per fuggire questa caoticità, questo che potremmo definire primo nichilismo, cioè questa mancanza di conformità tra ciò che vogliamo e ciò che accade, questo mondo fatto di caos, di sofferenza. Ecco, qual è il problema? Il problema è che in questo modo si vanno a creare dei valori che inizialmente garantiscono la sopravvivenza della comunità, che inizialmente dal singolo sono ritenuti come validi, ma che in realtà nascono per tutelare la comunità, che dopo diventeranno però l'istinto del greggio nel singolo, cioè quel concetto che Nietzsche criticherà quando la voce del greggio agisce nel singolo, cioè quei concetti morali che nascono per la comunità agiscono nel singolo, ma non sono più ritenuti come validi. E questo accade laddove si sostituisce una produzione valoriale a un'altra produzione. Per fare tanti esempi è piena la Bibbia, ma qualsiasi altro testo, qualsiasi altra filosofia, di precetti, di insegnamenti che a distanza di duemilani fanno sorridere. Si scrive nella Bibbia di non mescolare tessuti diversi, lino con la seta o lino col cotone. Forse questo aveva un'esigenza di tipo pratico. A quei tempi si diceva di non mangiare carne, di non fornicare, si sa che questo serve anche per prevenire certe malattie, certe carestie, eccetera. A giorno d'oggi queste cose fanno sorridere e non sono più rispettate perché hanno perso la loro funzione sociale. Qual è il problema? Perché se il meccanismo funzionasse, considerando che Nietzsche non imposta la verità in quanto tale, ma soltanto ciò che dà al singolo la possibilità di realizzarsi, Nietzsche accetterebbe questi sistemi. Il problema è che in la lunga, quando ciò che la comunità ci impone diventa diverso da ciò che il singolo sente come necessario per la propria esistenza, nasce una scissione, si sprofonda in una sofferenza, in una frustrazione, in un tormento psichico, morale, dell'anima che fa l'uomo infelice, fa l'uomo decadente. Ecco, questo accade anche oggi, quando alcune persone non ritengono proprio i certi valori della società, che ritengono ormai anacronistici, certi valori della Chiesa, certi precetti morali. E per Nietzsche Nietzsche è quindi un mondo, quello religioso, metafisico, che nasce per consolarci da queste difficoltà che l'uomo incontra, serve per tutelare la società, ma che alla fine si rivolta contro di essa, perché questa violenza non solo non viene eliminata, ma viene posticipata e poi perpetuata. Quindi Nietzsche vuole cercare una via altra per risolvere questo problema, non vuole sostituire un sistema di valori un altro sistema di valori, vuole proprio dimostrare come i valori non possono che essere prospettici, non possono che essere temporanei, non possono che essere soggettivi. Quindi Dio, il Dio che muore, muore ucciso dall'uomo. Ecco, quello della morte di Dio è un concetto molto interessante sul quale Cacciari ha avuto modo di esprimersi in una maniera brillante in una conferenza che tra l'altro è intracciabile su internet, quindi consiglio ovviamente a chi fosse interessato di vederla. Ecco, Cacciari dice che la morte di Dio è un evento, un evento storico, cioè non è una posizione ontologica in qualcosa che riguarda l'essere, non è l'affermazione dell'inesistenza di Dio, è la dimostrazione storica del fatto che quei valori che noi ritenevamo validi, che quei valori che noi ritenevamo efficaci, perdono di efficacia, perché storicamente Nietzsche cerca di dimostrare questo, che la violenza di quella società che voleva eliminare la violenza, in realtà c'è ancora. E questo è un fenomeno che Nietzsche ricondusce nella civiltà occidentale dalla regolazione filosofica di Socrate fino ai giorni suoi. I morti di Dio, Nietzsche intende la impossibilità a Dio di giudicare, toglie a Dio il giudizio. Al di là dell'ateismo, Nietzsche, se guarda nella Gaia Senza, alla fine, Nietzsche ha, dice che l'animo, cioè ha una, intende, parla dell'orfismo praticamente, perché l'uomo sarebbe sempre vivo, sempre vivo, si trasmetterebbe di generazione in generazione. E la morte di Dio significa che è stato bloccato questo sistema. Il progresso scientifico o ideologico o morale si è fermato, si è bloccato da quando sono entrate in funzione le religioni monoteiste. questo dice Dio, intende, 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 intende proprio la impossibilità a Dio di giudicare, perché se lei crede di morire e di essere giudicato da Dio, Dio non esiste più. Questo è una interpretazione. Dio non esiste più, perché ci sono tante cose che, io per esempio potrei essere ladro, potrei essere ben fattore, potrei essere assassino, potrei essere uno che si sacrifica per gli angeli, che muore per gli angeli, tante cose che dipendono anche da fattori chimici, addirittura, generici. Il professore lei però mi insegna che mostra il Dio chiaramente un concetto molto complesso. Per cui, oltre all'ateismo, inizia si rifà anche delle religioni o delle pseudo-religioni, che lui intende per esempio Pitagora e Orfeo, come i migliori religiosi. Non intende, non dice c'è l'ateismo e ci sono le religioni. Lui dice, lui combatte le religioni monoteiste, fra cui la vecchia sinagoga, perché lui, oltretutto, era favorevole a chi parlava male degli ebrei, l'antisemitismo, lui lo condannava, però condannava la sinagoga, condannava la chiesa cattolica. Sì, però ecco, quello che mi sento dire io è che questa critica alla comunità religiosa è quello che poi in parte andremo in maniera più veloce a vedere nell'anticristo, nella parte finale, anche nel creposto dei ridi della sua produzione. Se vogliamo mantenere l'assunto che abbiamo fatto all'inizio, cioè che questo periodo illuministico si è utilizzato da questa decostruzione della metafisica, la morte di Dio è da intendere come questo evento, non come una dichiarazione d'ateismo, ma come la presa di coscienza, che in realtà non c'è stata. Non è come dichiarazione d'ateismo, la morte di Dio è dare a Dio, togliere a Dio la possibilità di Dio. Questo è una delle, non solo interpretazioni perché sono concetti molto complessi, dove alcuni possono dissentire liberamente, su questo c'è molta, molta, io sono d'accordo con lei, però dico alcuni autori dissentono, altri casi sono fuori. Nice, io non lo metto tra i nazionalsocialisti, io non lo metto tra i nazionalsocialisti, io non lo metto tra i nazionalsocialisti, io non lo metto tra i nazionalsocialisti. Lo metto tra i nazionalsocialisti. Quindi quello che volevo dire io, che la morte di Dio, anche per quello che importa, poi le conclusioni etiche, il modo in cui si collega con l'eterno di tono, la volontà di potenza, eccetera, è una dichiarazione di fallimento. E il fallimento presuppone che ci sia stato un processo che abbia portato a questo fallimento. Cioè, Nietzsche, in questo caso, non vuole sostituire, cioè, il suo modo di fare filosofia non parte da presupposti certi e arriva a conclusioni certe, ma è caratterizzato dal percorso che viene fatto. E questo è il motivo per il quale a volte si arriva a contraddirsi. La verità non ha senso come punto di arrivo, ma come percorso. Ma in virtù di questo, la morte di Dio ha senso non come verità che già esisteva, che esiste e che esisterà, ha senso esclusivamente come trasformazione, come evento che si verifica all'interno delle coscienze. E per di più, ha senso esclusivamente se di questo evento se ne prende coscienza, perché se Dio muore e non ce ne accorgiamo, non cambia nulla. Cioè, non c'è un cambiamento cosmologico e non c'è una nuova verità. C'è l'annuncio di un evento che non viene recepito, che forse verrà recepito soltanto qualche decina di anni dopo, quando tutti si renderanno conto che quei valori finali, quei valori fondamentali, quei valori ultimi, poi non sono tanto ultimi. Già l'uomo, per cui il terzo anichilismo, l'aveva già sostituito con delle nuove verità. Lui, ad esempio, quando fa la critica al comunismo, all'anarchismo, che sostituiono altre scienze, quelle moderne e contemporanee, che sostituiono valori, che a un certo punto dice, i valori una volta arrivano dall'alto e adesso l'uomo si li dà da sé. E sono comunque pesi. Cioè sono quelle verità, valori superiori, cristallizzate, che giudicano. E anche lì è il Dio, un Dio, uno dei tanti dei, nell'interpretazione della dichiarazione alla morte di Dio, da parte di Nietzsche. Quindi sono quei valori che giudicano. È Dio, nel cristianesimo, sono i valori superiori, diciamo, che sono venuti poi anche dopo. E quindi stanno lì come verità cristallizzate, che giudicano e immobilizzano. L'agire, esatto. E crudopici, Giorgio. E crudopici, comunismo. Sì, sì, ma la critica ce n'era lì allora perché il comunismo, cioè il comunismo, ne faceva, per dire, il monico era non sostituire verità trascendentali con altre verità sempre costrucce, per dire. Poi c'è molto, quindi non è che c'è, per ritornare all'osservazione del fatto dell'interpretazione di Dio, che è molto più ampia del Dio monoteista. Un Dio che cura la metafisica, che cura la scienza. Sì, la scienza, esatto. Tutte quelle nuove, ecco, quelle nuove morali, non religiose che... Per esempio Spinoza, Spinoza fu scomunicato, non dalla chiesa cittolica, ma da un'altra chiesa, fu scomunicato perché praticamente diceva questo. Il miracolo naturale, quello è il miracolo di Dio. Noi cerchiamo, abbiamo per esempio, la nascita di un bambino, di un sbucciare di un fiore, gli alberi, la crescita dell'erba degli alberi, tutti questi sono miracoli naturali. Spinoza trova Dio in questo, non in una legge che ti obbligava a dire a Dio c'è. E quindi fu scomunicato, e meno male che se l'è cavata non fu bruciata, e questo diceva lui. In questa sezione, diciamo così, del Dio che fa i miracoli naturali, in questa sezione si sviluppano delle religioni pre-socratiche che, per esempio, come l'offismo e come il pitagodismo che trae la religione. Il pitagodismo è una filosofia, ma non era una religione. Quindi dunque, per proseguire, poi avviarsi alla conclusione, il succo di questa prima parte di filosofia è questa ricostruzione del sistema di pensiero, della cultura, della metafisica, della religione, di Dio, della scienza, che viene fatta internamente al sistema. Cioè, Nietzsche adotta quel modo di pensare, quel modo di filosofare, per dimostrare che è incoerente. Si apre poi tutta la speculazione volta a trovare una condotta alternativa, cosa difficile, cosa che secondo alcuni Nietzsche non è riuscito a fare senza contraddirsi, cosa secondo alcuni è stata fatta, alcuni in parte, eccetera. Quello che però interessa indagare ancora noi quest'oggi è come il pensiero di Nietzsche assuma un'espressione, una sfumatura diversa nella parte finale della sua vita. Io personalmente, sulla scia chiaramente di voci più autorevole, mi permetto di ricondurre il suo modo di scrivere, di pensare, più aggressivo, più incisivo, più belenoso, alla tragica fine che stava per fare. Gli ultimi anni della sua vita sono anni assormentati, sono anni in cui lui vive solo, totalmente solo, se non con sporadici contatti, sono passati quei pochissimi anni felici nei quali lui aveva avuto alcune conoscenze, gli anni con Wagner, gli anni con Lou Salomé e Paul Ray, e Nietzsche si avvia a quella che sarà la pazzia, che lontano da essere un modo per screditare il suo pensiero è un punto di arrivo, cioè la pazzia, per certi versi, per certe persone, per certi autori, è il punto di arrivo di una filosofia che rinuncia a relazionarsi col mondo come si relaziona la cultura occidentale, cioè la pazzia come punto di arrivo, come presa di coscienza ultima, dove... L'era malato veramente. E' decostruito. Sì, adesso ci arriviamo, poi magari ne dibattiamo dopo. No, no, l'interpretazione libera per tutti. Secondo me, secondo me, era malato. Certo, però ecco, vede, la cosa che convince me personalmente a pensare che la malattia sia il proseguo di questa sua filosofia, da dove le parole non arrivano più, arrivano i fatti, cioè arrivano i comportamenti, non gli scritti, è il fatto che, paradossalmente, negli anni della pazzia, quando ormai lui era ancora lo psichico, non ha più nessun tipo di disturbo corporeo, cioè lui non vomita più, come faceva prima, non ha più violente di cranie, non ha più collassi, cosa che invece prima era la regola e che lo costringeva a fare due, tre, quattro giorni a letto dopo che si era spostato in treno per pochi chilometri. E allora questo dato, l'assenza di disturbi patologici dopo la pazzia, ci porta a far riflettere e sulla scia di studi che tra l'altro dimostrano sempre più come la pazzia non sia uno stato patologico, ma sia un diverso modo di relazionarsi col mondo, che quindi possa essere ritenuto anomalo soltanto dal punto di vista statistico, ma non biologico. Ecco, questo modo di pensare ci porta a pensare che ecco, Nietzsche di sicuro non è stata la sua l'opera di un pazzo, ma addirittura è un'opera talmente riuscita, talmente spinta, talmente critica che arriva al punto dove le parole devono essere sostituibili dai fatti e al modo di scrivere ai pensieri si sostituisce la pazzia. Questo lo diciamo per dire cosa? Che il crepuscolo degli isoli, ma anche opere come Il di là del bene e del male, Ceomo, Anticristo, eccetera, raggiungono livelli retorici, quindi di spessore letterario unici e ai massimi livelli nella letteratura tedesca, quindi non è da dubitare del loro valore sinistico. Però, come alcuni autori sottolineano, è uno stile più cattivo, più aggressivo, più violento, che invece era preceduto da uno stile, quello delle opere luministiche, giocoso, scherzoso, ironico, autoironico. Ecco, per fare un esempio che per me colpisce molto è l'utilizzo del punto interrogativo che nelle opere del pello luministico esprime condizioni di dubbio reali, proprio seguendo quel discorso che facciamo sul prospettivismo, mentre nelle opere finali diventa esclusivamente un modo retorico per dire la propria mettendo la berlina l'avversario. Dopo i fatti dell'89, dell'88, perché nell'88 mi fermò il cavallo, così, dopo ci fu un periodo nel quale non fu più, subito portato in ospedale, all'ospedale, al manicomio, fu un periodo nel quale scrisse delle lettere e disse tutti i militari si solleveranno in mio favore, proprio cose da pazza, non so. E niente da follire. E lui, i militari, lui sosteneva già dal tempo della gioventù, sosteneva il Kaiser, sosteneva l'esercito tedesco. Adesso sostiene tutti i militari, francesi, tedeschi, inglesi, italiani, tutti quanti ci sarebbero dovuti ribellare e andare in suo soccorso. Questo è l'idea di un pazzo, quindi praticamente secondo me dice era malato proprio, è diventato pazzo perché era malato di malattia, non di... Non è così, non è così, non è più così semplice. Ecco. Non è più così semplice. No, 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 facciamo finire lui. Ma questo può essere uno spunto solamente interessante. No, no, devo di sì. E diventa interessante. Sì, sì, sì. Facciamo così, io accelero le conclusioni di voi esatto, ne parliamo liberamente. Questo è un discorso stilistico, a livello di contenuti, i contenuti non cambiano, cambia la prospettiva, ma il succo rimane quello. Crepusco dell'Ideo è un'opera anch'essa straordinaria, quindi non ha fatto un'opera di Serebini, non voglio assolutamente dire questo. È un'opera un po' più violenta, un po' più cattiva, dove Nietzsche si scaglia in maniera diretta e si scaglia contro i suoi Nietzsche. C'è un capitolo, una parte dedicata a Socrate, una parte dedicata a quelli che sono i quattro regoli fondamentali della nostra società, c'è una paginetta in cui dice come il mondo vero divenne favola, quindi in poche righe di percorrere il tramonto del mondo vero e sorgere poi però il relativo tramonto del mondo di favola dell'adilà, eccetera, eccetera. Non vengono aggiunti contenuti particolarmente più significativi, diciamo. Vengono aggiunti dei dettagli, per esempio la critica a Socrate e al socratismo viene condotta con armi, forse a me vediamo a dire un po' più meschine, lui dice che Socrate era una persona molto brutta in faccia, un mostrumo in fronte e quindi doveva essere anche un mostro nell'anima, quindi secondo studi criminologici che eravamo per quel tempo. Poi ironizza sulla sua provenienza dal popolino perché lui non era di Atene ma era del duomo di Alopece e quindi sì, però ecco veniva da 30 km più lontano, lui era di una piccola tribù, della tribù Antiochide e un provinciale e quindi secondo lui doveva essere una persona poco capace. Ecco, quindi tutte queste critiche portate avanti raggiungono poi l'apice nell'anticristo che è un vero e proprio una vera e propria minaccia, un vero e propria un vero attacco frontale nei confronti della religione cristiana, della figura del prete e di tutta la chiesa interna. Bisogna vedere che Socrate si è vissuto anche se quello prima in Nietzsche c'era un'altra mentalità, un'altra cultura, un'altra vettuta perché se Socrate si sarebbe vissuto all'epo in Nietzsche la sua filosofia sarebbe direttamente diversa come Mosè alcune cose forse potrebbero essere attuali sul piano legislativo anche Gesù certe cose oggi di Gesù sono superate se Gesù vorrebbe oggi con la sua mentalità con la sua filosofia non so quanto atteccherebbe con quello che sappiamo oggi tutto in base ai tempi ci muoviamo nell'ipotetico più totale bisogna sempre anche rifluire nei tempi io però mi limitavo a testimoniare a relazionarsi ciò che Nietzsche dice in questo caso non nemmeno nel merito perché ci allarghiamo troppo sì ma anche perché secondo me la parte fondamentale si trova in quelle opere che abbiamo descritto l'anticristo quindi è l'opera finale molto violenta tuttavia che va letta chiaramente da chi si avvicina a Nietzsche va letta da chi apprezza il suo modo di pensare va letta quantomeno per rendersi conto di come viene condotta la lotta nei confronti della religione è chiaro che quest'ultimo modo di scrivere questo ultimo modo di scrivere Nietzsche non gioca molto a suo favore perché da alcuni verrà vista come una deviazione di quella presunta patologia che ho fatto da dopo che viene identificata come la causa di quel declino verso l'abisso ecco sostanzialmente si diffude così la trattazione non può essere affrontata in maniera compiuta quella che la prospettiva nuova che Nietzsche apre non mi permette solo di trarre qualche piccola conclusione in maniera molto rapida aia perché si sembra dire Nietzsche alla fine soprattutto negli ultimi anni della sua vita in maniera espressa ma anche nelle opere di più di un mistico è che questo è un mondo dove conviene essere moderati dove le posizioni estreme le posizioni che non mettono il caso l'assurdità l'ipotesi il dubbio sono posizioni destinati a generare violenze e destinati a cambiare l'intensità e questo in contrasto con ciò che mi è pensato di Nietzsche come ideologo del superuomo con l'uomo con la sprezza di altri e con la sprezza c'è un pezzo poche righe di quest'opera di Crismo Europeo che è un frammento non pubblicato dell'86 che dice scrive in maniera improticia in cui lui fa una domanda e poi fa una risposta che rilascia a conti di pubblico rispetto di tante altre domande che pone una volta analizzato tutti i discorsi che abbiamo fatto noi adesso in questa ricostruzione lui si chiede quali uomini si rivederanno a loro più forti lui dice i più moderati quelli che non hanno bisogno di articoli di serie estremi quelli che non solo ammettono ma amano buona parte di caso di assurdità quelli che sanno pensare all'uomo con notevole riduzione del suo valore senza per questo diventare più credere i più ricchi di salute quelli che sono all'altezza della maggior parte del bilancio e che quindi non hanno tanta paura del bilancio gli uomini che sono sicuri della propria potenza e che rappresentano lo sapevo di orgoglio la forza raggiunta da l'uomo quindi questo può essere un modo per dare una risposta e non lasciare totalmente vuoto diciamo il campo delle risposte a queste interrogative e queste problematiche che abbiamo fatto grazie prima di prima di dare la parola allo psicologo perché freme dalla voglia di spiegarci la pazzia del paziente di oggi io ti volevo fare una domanda su un testo che ci hai consigliato lì che fai magari il Tao di Nice e ti volevo chiedere siccome il Tao è una filosofia orientale ti volevo chiedere se questo autore lo aveva usato come strumento di interpretazione della filosofia di Nice o se lo considera invece integrale al pensiero no la prima che hai detto nel senso che questa è un'opera di un professore che io conosco personalmente molto dedito allo studio di filosofia orientali grande studioso anche di Nice che ha prodotto quest'opera che è abbastanza singolare nel panorama della letteratura della produzione su Nice in cui viene fatto un paragone viene condotto un percorso parallelo tra quella che è la filosofia orientale del Taoismo e quello che è il pensiero di Nice sostanzialmente ripercorrendo in maniera diciamo descrittiva la filosofia di Nice e quella orientale si viene a scoprire come gran parte di ciò che Nice gran parte dei messaggi che Nice ci lancia sono il modo di pensare da secoli di un'altra parte della popolazione mondiale che si trova in Oriente e che adotta questo modo di pensare è un'opera abbastanza ricca di contenuti quindi sarebbe anche difficile andare a trattarli tutti però alcune cose sono molto espressive per esempio in questo libro ci viene descritta come la filosofia orientale non utilizzi la logica duale la logica binaria da noi se una cosa non è vera allora deve essere necessariamente falsa perché il vero è falsa secondo Nice non è così secondo alcune filosofie orientali d'accordo con Nice esiste un caso terzo tra il vero e il falso cioè quel terzo inondatur di cui parlava Aristotele che invece per Nice e per le filosofie orientali esiste comunque penso che proprio nella della scienza lui giudica il buddismo superiore al cristianesimo dice è una religione decadente però è molto meglio del cristianesimo appunto per i motivi esatto anche era un anticristo si riflette poi su questo libro su come forse Nice avrebbe modificato in parte la sua opinione appunto sul buddismo e su altre filosofie se ne avesse avuto una conoscenza diretta lui non aveva alcun tipo di conoscenza di queste filosofie se non per sentito dire come di tanti altri filosofi e leggendo ecco come le strade veramente procedono su binari paralleli o forse addirittura coincidenti ci viene da chiedere se veramente forse Nice non sarebbe stato un amante di quel tipo di filosofia e se non avrebbe fatto proprio molti di quei tesi sono poche pagine sono poche pagine scusa Fabio siccome può darsi che non si sente bene se puoi ripetere anche la domanda si quali sono i quattro errori fondamentali di cui parlavamo che dice possiamo parlarne in maniera sommaria allora l'errore dello scambio di causa ed effetto questo discorso che per Nice facciamo prima del fatto che a volte si scambiano cause ed effetto può essere strumentale per capire il concetto anche lo scambio di causa e di fine noi per esempio diciamo nel mondo naturalistico che la pianta cerca la luce cioè si allunga per cercare la luce Nice direbbe il contrario che quella è una causa del perché la pianta si allunga non c'è un fine nella natura il mondo non tende verso un equilibrio verso è spinto da un equilibrio che già c'è Schopenhauer dice che la pianta c'è una sua volontà la pianta come ce l'hanno gli animali la stessa volontà abbiamo noi e per cui la vita non ha scopo secondo Schopenhauer però non dice che la pianta sbaglia quando cerca l'acqua quando cerca l'acqua no forse mi sono espresso male devo dire che quando noi parliamo di fini nella natura secondo Nice commettiamo un errore quello di sostituire al fine la causa cioè la pianta si allunga e questo lo vediamo alcuni dicono si allunga per cercare l'acqua per il fine di cercare l'acqua Nice dice il fatto che vuole cercare l'acqua è la causa perché si allunga come se io dico vado al supermercato per fare la spesa quello è un fine oppure dico vado al supermercato per fare la spesa ma quella è la causa normalmente io vado al supermercato con il fine di fare la spesa la volontà la villa è quella non ci sono seconde ragioni la villa è quella per me c'è la stessa cosa la villa è quella la pianta si allunga perché si allunga e non c'è ragione c'è allungamento della pianta e questo l'ho detto prima l'hanno sfruttato bene i sacerdoti siamo d'accordo poi c'è l'errore di una falsa causalità in pratica a volte si collegano cause ad effetti che non ci sono cioè noi vediamo in qualcosa la causa vediamo nel mondo una causa che deve essere Dio ma perché perché partiamo dal presupposto che questa causa ci deve essere colleghiamo anche nelle cose più elementari se sentiamo un suono noi supponiamo subito che ci debba essere un qualcosa che l'ha causato questo è vero forse nella maggior parte dei casi ha una validità come discorso sociale ma non dobbiamo ragionare sempre in questi termini e presupporre che non esistano cose incausate perché questo non l'abbiamo non l'abbiamo mai dimostrato poi dice si sasserva molto sulle cause ne dà anche una spiegazione psicologica l'errore del libero arbitrio di cui parlavamo quindi il fatto che non esiste una libera volontà ma una volontà determinata non da noi e quindi in pratica in queste pagine che sono ecco sì sei facciate cinque facciate inizia a ripercorre tutti questi errori che abbiamo detto che fanno del nostro modo di pensare questo modo di pensare pieno zeppo di contraddizioni ecco di molto soggettiva la cosa infatti anche la soggettività non è una soggettività siamo sempre da capo certo ecco sono anche le quattro sono anche le quattro sono alcuni dei motivi per i quali poi Dio è morto cioè quello che è morto è il Dio che non è deterministico che ti attribuisce una volontà a cui terribile se vuoi puoi vi ha detto a Caino il male alla tua porta ma se tu vuoi puoi io non posso non posso volere quindi tutto il resto muore il Dio non deterministico muore il Dio non relativistico quello che appunto non si vuole il problema ma sta legge della lana e della seta vale ancora ancora una utilità e muore un Dio cioè la pazzia di Nietzsche è molto coerente con ogni cosa che ci sembra pazzia perché un modo di pensare non può non cortocircuitarsi su se stesso cioè che anche muore anche il Dio della unicità dell'uomo c'è un paradosso ma siamo noi a essere uniettrini nel senso che abbiamo tre funzioni diverse che comportano anche la lacerazione l'angoscia del non so che cosa decide perché ho due volontà dentro e io sono il terzo che le vede ora quello che sembra follia è la continuazione la costruzione coerente di un modello interpretativo alla fine Nietzsche ragiona coerentemente con il modello che si è dato e che non può non essere determinante per cui poi arriva quella cosa che sembra che sembra follia ma è di una lucidità estrema lei io noi abbiamo pensiamo una verità no? noi pensiamo una conseguenza logica della verità noi pensiamo ancora una conseguenza logica della verità poi ancora una conseguenza logica della verità ma poi si arriva la pazienza no si arriva una lucidità estrema perché se questo è il funzionamento della macchina cioè la nostra macchina mentale è fatta per trovarvi alla causa delle cose e perciò che fatalmente comune da qualsiasi parte comincia un ragionamento un essere umano arriva a individuare qualche divinità perché si pone il problema del diverso è separato il sacro e poi si pone una domanda se ti ha fatto il sacro e arriva a dire inautomatico andiamo allo sviluppo infinito della civiltà andiamo allo sviluppo infinito della civiltà o andiamo alla pazia due sono le cose ma le conseguenze prodi prodi a pensare la conseguenza logica di una verità allora io devo fare in questo modo allora io devo fare in questo modo allora io devo fare in questo modo o arriva alla diciamo così crescita esponenziale della verità prima di raggiungere la verità estrema oppure arriva la pazia due sono le cose non si può fare di tutti di tutti i ragionamenti di tutti i sistemi di filosofia non si può fare una conseguenza logica razionale fino in fondo non so se qualcuno non mi può capire o se non mi può capire o se si è sbagliato forse non si è sbagliato a me non penso così e mi se forse la pensava anche lui così sì più o meno stiamo dicendo le stesse cose cioè non c'era possibilità di un fondamento non dimostrarlo quindi chi vuole dimostrare va su questo scoglio ci vuole un sistema di pensare altro scusate il fatto invece che ci fosse proprio il sospetto di una patologia organica in Nietzsche cioè le sue frequentazioni giovanili che avesse sviluppato la cifilide non è anche questo un altro messo complicato lo dicono lo dicono lo dicono si dubitava a volte di questo tipo di discorso cioè si rifletteva su come potesse esserci questo problema il giorno d'oggi se non sbaglio dopo alcuni interventi di Giorgio Colli adesso però non voglio dire una sciocchezza anche biograficamente si è andato a dimostrare che questa ipotesi non è compatibile con tutta una serie di altre cose quindi non non è non è pensabile che la filosofia di Nietzsche sia il prodotto di una pazzia in primo luogo in secondo luogo ma questa è la cosa fondamentale che prescinde anche dalla prima seppure fosse l'opera di un pazzo tanto meglio cioè questo è il concetto non c'è più pazzia e normalità all'interno del contesto di pensione nel quale ci muoviamo e quindi il fatto che sia l'opera di un pazzo non ci dovrebbe spaventare possiamo dire seguendo alcuni pensatori che sia proprio un'opera da pazzi nel senso che ci porta alla pazzia perché come diceva il signore prima a Vincenzo il nostro modo di ragionare è fatto di ricerca di capso effetto è fatto di una ricerca di senso allora anche la volontà di cercare un senso delle cose che fa parte di noi se portate agli estremi e mi dice penso a questo ci sia credo in questi due mili anni ci porta alla pazzia se si abbracciano le conseguenze delle implicazioni logiche se poi da interesse 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 mi penso anche per me di rispondere perché quando Nietzsche sente bene non è più psicosomunico vomi non è così è così dato che non è più così semplice anche da quando io concedo a fare psicologia se ci sono cose complicate da dimostrare sulla parte del uomo discendo alla cimia non c'è nessuna contro è possibile se l'uomo discendo all'uomo perché le negocienze hanno dimostrato che contro l'intuitività è un moderno giusto cioè non posso dire che il caso che l'uomo è non dire qui c'è l'uomo a essere uomo il fatto che sia uomo esserci dipende da un caso non è la stessa cosa e quindi anche se il nostro modo ordinario di matare ci vuole per dire la pianta vuole crescere la giraffa voleva avere il corpo al mondo non è questo non ci sarebbero giraffe non ci sarebbero piante se quelle cose vegetali non crescessero non era la stessa non ci sarebbero giraffe se non è secolo quindi tutte le cose devono essere contro individualizzate se invece insistiamo nel modello di minimiare le cause effetti prima e dopo fine e scopo cause fine non capiamo più niente non è molte molte cose non sono più soltanto quando 30 anni fa siamo in devoto ascolto per esempio la forisma di Nietzsche per dire come a volte i problemi diversi vengono approcciati da modi diversi da punti di vista diversi noi abbiamo detto non vuole dimostrare che Dio non esiste vuole dimostrare che non sbaglia chi dice che Dio esista vuole dimostrare che Dio non è necessario che è più probabile che sia Dio un errore dell'uomo piuttosto che il contrario è che si possa vivere senza Dio cosa difficile da fare quando si possa fare e addirittura sia meglio c'è un aforisma non mi ricordo se in un attimo solo come su questo concetto poi se non sbaglio di umano troppo umano dove lui dice quando sentiamo il suono delle campane stiamo sentendo il suono delle campane per un ebreo morto 2000 anni fa e poi se non sbaglio continua con tutta l'analisi di quella che è stata la vita di Cristo cioè nato da uno spirito santo nato da una vergine eccetera eccetera e noi in base a questo suono di campane della vita di quest'uomo di 2000 anni fa neanche tanto certa ci comportiamo in un certo modo allora quasi con la persuasione come se ci dicesse ma cosa state facendo cioè sentite le campane per una persona che è morta 2000 anni fa e continuate a comportarvi in quel modo forse state sbagliando quindi l'ateismo che non è solo dimostrazione di un modo di essere diversi è un modo di comportarsi diversi è un'ipotesi diversa ed è qualche fatto di spirito cioè lui dice io sono ateo per natura cioè è un'esigenza personale il mio ateismo non è un punto di arrivo non è che un giorno mi sono messo al tavolino scoperto che Dio non c'era piuttosto al contrario mi sono reso conto cioè ho sentito dentro me che non c'era e ho spiegato perché la ragione proviene da gli miracoli naturali perché l'uomo primitivo ha pensato a Dio rispettando i miracoli naturali cioè si è reso conto che nascevano gli animali nascevano i bambini fiorivano le piante gli ambri davano da mangiare in questo modo allora la religione migliore secondo me è quella del faraolo quella egiziana perché loro tanto credevano a tutti i miracoli naturali cioè li facevano dipendere da Dio e davano a questi miracoli per esempio Osibide era il Dio della Messa delle Messie e quindi ogni estate c'era una barca che correva sul Nio e si festeggiava Osibide Osibide che veniva ammazzato dai titani spezzettato e poi rinasceva da questa rinascita rinasceva come grano come messe come produzione della terra e si festeggiava questo ma si festeggiava un carattere miracoloso un carattere umano ai o super umano ai miracoli naturali nelle quali si credeva e questo miracolo era si può dire Dio ma le religioni monoteiste hanno rotto questa religione perché la religione è una cosa bella però ha questo difetto che distrugge tutte le le culture che non appartengono a quella religione e io ho paura adesso voi sarete contrari che anche l'ateismo sia un pochettino pecca di questo errore secondo me e quindi ho un po' di diffidenza dell'ateismo sarei per l'orfismo è l'orfismo che interpreta veramente quello che dice Nietzsche perché la rea scienza alla fine sfida che l'orfismo però guardi veda naturalmente non può essere provato scientificamente quindi lui lo sovrascede però lui ci pensa l'idea che gli atei siano tutti atei allo stesso modo assolutamente dovrebbe essere affiancata dall'idea che tutti i credenti siano credenti allo stesso modo esistono atei che fondano il propateismo su dimostrazioni scientifiche altri che lo fanno senza dimostrazione perché aspettano dimostrazione ecco ora diciamo non si può negare e quindi sono d'accordo con lei che certi modi di essere atei siano in realtà credenze in quella che è la sostituzione di un Dio con un non Dio cioè ragionare come un cristiano dicendo però che Dio non esiste significa essere a detta di Nietzsche tanto credenti tanto decadenti quanto lo è un cristiano il problema è un altro cioè riuscire a creare un mondo dove non importa nemmeno se Dio esiste o meno dove Dio non è necessario dove Dio partendo dal presupposto come è necessario si fa da parte e lascia la scena la scena al mondo ma come me ha ragione Spinoza perché Dio rimane per quanto lo si mediano io rimane nei fatti naturali ma torno a dire non ci importa se Dio esiste o meno cioè possiamo vivere anche in questo modo senza preoccuparci di questa questione forse se ci preoccupassimo di cose più vicine ma lei non può obbligare tutti a non preoccuparsi ognuno e se si ammette la libertà si deve ammettere la libertà per tutti ci sono errori per me le religioni monoteiste sono tutte sbagliate ti posso chiedere scusa Silvio due volte che ti chiamo Fabio scusa Silvio tu prima hai detto Dio è morto può darsi che non ce ne siamo accorti forse ce ne accorgeremo una religione come il cattolicesimo come la chiesa che ogni momento ci richiama all'esistenza di Dio e vari dogmi eccetera che sicuramente si accorta che nella popolazione e nella società questo Dio è morto quanto quanto fa per modificare se stessa per adattarsi a questa nuova realtà questa è una considerazione personale questo penso che sia un problema più che filosofico nel senso dottrinale sia un problema tipo sociale tipo quasi antropologico nel senso che è evidente che ci sono fenomeni di trasformazione continui cioè che la chiesa si modifica perché si apre di volta in volta certi tipi di pratiche perché allenta i cordoni da una parte si apre certi discorsi una cosa curiosa che può sembrare strana ma non è da da scattare come sciocca o come inferente ma ancora una volta è una possibile interpretazione da rispettare è quella di una conciliazione tra il cristianesimo e la filosofia di Nietzsche o meglio la produzione lo scenario che si apre dopo la sua decostruzione non con la religione cattolica perché questo è impossibile sarebbe una cosa non è conciliabile la religione cattolica con la filosofia di Nietzsche ma il cristianesimo sì perché Nietzsche a parte che aveva una simpatia per la figura di Cristo sostanzialmente riprende alcuni messaggi di Cristo ma quello di non dedicare in parte fondati anche forse sullo stesso tipo di presupposti sullo stesso tipo di approccio alla realtà ci sono quindi filosofi esperti Nietzsche attrezzatori stimatori della filosofia di Nietzsche che si comportano da sono anche diciamo braccio anche il cristianesimo e non si può escludere che persone che si comportino cercando di seguire quello che è l'insegnamento ma più che altro l'insegnamento che ognuno trae da se stesso leggendo Nietzsche ecco queste persone si comportino di fatto da buoni cristiani a livello di prassi diciamo così a livello di prassi è particolarmente esperto ma non lo scondo neanche particolarmente interessato alle relazioni che la Chiesa poi parliamo forse di quella cattolica ha con il resto della società io personalmente mi vivo questi insegnamenti come un discorso etico non politico cioè da questi libri da queste letture io non traggo una volontà di andare a convincere gli altri a credere in una cosa piuttosto che in un'altra non traggo la volontà di educare gli altri traggo degli insegnamenti imparo a comportarmi in un certo modo e a volte mi rendo conto che comportandosi in questo modo ecco non ho problemi che magari ha chi pensa di risolvere credendo in qualcos'altro quindi sostanzialmente quello di Nietzsche rimane un discorso etico cioè legato alla soggettività all'individualità quegli discorsi del genere che sono politici nel senso allargare cioè sociali forse sono un po' più distanti dai concetti che Nietzsche esprime finiamo così finiamo così finiamo con il senso della discussione secondo me l'errore che si può dare alla Chiesa Cattolica è quello di essere limitato come tutte le religioni come secondo il pitagolismo tutte le cose che sono limitate sono sbagliate perché soltanto noi dove dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare a un mondo vivibile non possiamo arrivare a un mondo vivibile se non siamo tutti convinti che il limitato danneggia perché noi vogliamo cosa vogliamo noi oggi vogliamo che tutte le nazioni siano d'accordo tra di loro che tutti stiano bene solo in quel modo possiamo proporre un'economia globale che sia sufficiente per il mondo e adesso un'economia globale che contrasta il mondo non lo unisce per questo se noi vogliamo unire il mondo dobbiamo avere un concetto pitagorico è limitato anche il canto posiamo avanti i limiti i limiti i limiti del lato del credente del non credente tutti ci abbiamo i nostri limiti perché non esiste proprio avere la limitità assoluta prima di non scendere anche noi per la bollia non approfondiamo troppo esatto i grandi concisi del tempo subito dopo Cristo del 300 i primi ma quelli pensate che non fossero altri quelli che si sono inventati Dio esatto anche un'altra cosa a livello di testi c'è questa edizione abbastanza snella di Gianni Vattimo introduzione a Nice che è molto lucida accessibile a tutti anche se non si sono lette prima le opere quindi secondo me merita di essere forse il primo libro per avvicinarsi per quanto riguarda invece le opere scritte in se stesso la scena è un'opera molto molto complessa quindi magari ci si può accontentare leggendola di capire un 30 un 50 un 70% poi dipende dalla recettività di ognuno è molto specifico il terzo libro sono lucidi e duri diretti ma sono assolutamente accessibili non so cosa nelle biblioteche non so questa biblioteca non so se venne in casa c'è un'opera completa della Delphi no non penso che qui c'è no qua non so perché molti aveva la gaia scienza e un altro test se non ricordo c'era al di là del bene e del male c'è un'opera però è però adesso non so potremmo anche sentire comunque ripeto oggi per chi vuole avvicinarsi a questa parte del pensiero di Nice i testi che stavi presentando appunto sono tranquillamente acquistabili già oggi sono edizioni economiche sono accessibili la complessità nonostante la complessità ci sono degli aforismi che danno immediatezza nel insomma in un apertore di processo di pensiero per qualunque persona cioè sono assolutamente quindi io quello del parallelo con il Tao invece quello del parallelo con il Tao è questo qui si è l'altare di Nice edizione Mimesis questo è un libro ecco per chi magari già un po' dentro un po' già si è sporcato le mani merita anche questo di essere letto può essere più che altro una voce un po' diversa dalle cose che poi sostanzialmente si trovano sempre sui manuali si trovano come prefazione un po' a tutte le opere eccetera quindi merita effettivamente di essere letto è importante proprio per quello perché leggendolo uno viene a contatto con assolutamente è per questo che io lo consiglio ecco a chi oggi è venuto almeno un testo per partire perché ripeto sono fondamentali passare in un secondo momento a dei saggi io ad esempio ho tutte le opere di Nice ma ho anche altre opere la Battaglia come dicevamo prima sono tantissime altre opere fatte da filosofi contemporanei sul Nice ma non si può assolutamente iniziare esatto un approccio di quel tipo senza esatto i contenuti quindi lo consiglio a tutti quanti ringrazio mi chiedevo qual è l'aggancio per il quale si è arrivato al luogo comune per cui Nice è stato il filosofo della Nazionale Sociale questo è un discorso veramente interessante che potrebbe mai essere il caso di affrontare in maniera compiuta anche in un altro incontro però per rispondere io dico provocatoriamente che accostando Nice al Nazional Socialismo tedesco si fondano sia l'uno che all'altro questo perché chiaramente la filosofia di Nice non ha nulla che spartire con quella e il Nazional Socialismo parte dal romanticismo quindi di fine ottocento che in Germania parte nel 1698 mi pare e il Nazional Socialismo tedesco è il frutto di un modo di pensare che si era diffuso in quegli anni molto più complesso di quanto sembra adesso provo in pochi tratti a ricostruirlo in pratica si era diffusa in un periodo di difficoltà anche spirituale economica della Germania l'idea che bisognasse riconciliarsi con la natura quindi col folk con lo spirito del popolo che era un'entità trascendente che apparteneva al mondo che era la naturalità e dalla quale l'uomo moderno capitalista si era allontanato introducendo la macchina introducendo il progresso la civiltà ecco sempre più autori iniziarono a teorizzare che la crisi della Germania la difficoltà anche sociale e spirituale fosse dovuta a questa divergenza tra il folk e come l'uomo si comportava si è aperti quindi a tutto ciò che era esoterico a tutto ciò che era mitologia si è riprescato tacito che scriveva sulla Germania diversi secoli prima i miti barbari quindi della penisola scandinava eccetera eccetera e si è arrivati sostanzialmente alla fine della prima guerra mondiale che in Germania molti nutrivano la convinzione che bisognasse avversare il capitalismo e in particolare la figura degli ebrei tedeschi per un discorso che appare sciocco ma di fatto come si dice ha coinvolto milioni di tedeschi cioè l'idea che l'ebreo essendo un immigrato venendo da una terra arida come era quella medio orientale quindi una persona priva di valori povera precludeva ai tedeschi la possibilità di integrarsi col folk quindi il tedesco secondo nazionalsocialistico perlomeno la teoria iniziale quella più filosofica non poteva essere felice contento fintanto che non risolveva questi due nodi cioè la macchina e l'ebreo a base di questo è nato questo antisemitismo che quindi è di lunga data e è nato un modo di pensare di relazionarsi più attivo più aggressivo che ha trovato poi per ovvi motivi economici di disastri e il disastro economico che ha seguito la prima guerra mondiale in Germania ha trovato un consenso sempre più largo Hitler lo ha cavalcato e sostanzialmente si è arrivati a unire i due discorsi quindi un recupero della Germania sia cercando di eliminare lo straniero e di avversare il capitalismo anche con l'orevole padronale la sorella e l'idea è che l'uomo dovesse sovrastare gli altri uomini ora tutto questo con Nietzsche cosa c'entra? Nietzsche parla di superuomo alcuni dicono oltreuomo parla di volontà di potenza eravamo appena era appena finita diciamo la produzione lettera di Nietzsche ancora non c'erano quei grandi esperti che poi hanno prodotto nel novecento e quindi è stato facile per alcuni avvicinare due cose Mussolini stesso ebbe a scrivere delle righe su Nietzsche come dicevamo prima quindi c'è stata questa corruzione sia del primo discorso che del secondo che è stata poi agevolata da un errore clamoroso che è dovuto al fatto che la sorella di Nietzsche era sposata con Bernard Foster che era un antisemita razzista che era andato in Paraguay a sfondare una colonia della Nuova Germania eccetera e aveva cercato insieme alla sorella di manipolare le opere per andare a incrociarsi con quel discorso di antisemilismo quindi c'è stato questo quasi equivoco letterario questo sfruttamento di una filosofia ancora non conosciuta questa appropriazione che però oggi è da di potenza che sovrapponeva la volontà di potenza quel concetto del volk quindi nasce del super io ti sarei potuti in possessare tutto esatto sulla marina tra gli ufficiali francesi e quelli frussiani c'era solo un oggetto in comune da così parlozzaratusto dello zaino perché era un perché quell'idea del super uomo la volontà di potenza eccetera soprattutto in un periodo bellico dopo la caduta delle fantasie delle belle epoche delle magnifiche sorte progressive sembrava che un individualismo esasperato eccetera fosse la unica via d'uscita il super uomo di Nietzsche era l'uomo del primo silenzio cioè la scena di Borgia quella era il super uomo di Nietzsche quindi era c'era una discrepanza tra quello che dovrebbe essere il super uomo se invece si leggono bene quello che scrive Nietzsche il super uomo è un essere collettivo poi lui lo mette anche come Cesare Borgia come un uomo nel vestimento la belva sana e questo è contraddittorio perché se si legge bene Nietzsche Nietzsche ha il super uomo carattere di una specie il scatto della scimmia che cammina sottile adesso non ti ricordo dove è questa immagine dell'uomo la scimmia che cammina sottile in vitico eccetera è che il super uomo la volontà di potenza è discatto da quella condizione presuntamente infinita volontà di potenza volontà di potenza ma noi siamo schiavi di quelli di tutto ciò che ci mette un piede qua sopra siamo schiavi di quello la volontà di potenza è necessaria per liberarci ma come facciamo a liberarci secondo Nietzsche Nietzsche diceva se volete avere il risultato in politica ha detto prima i consigli ci fanno le cose piano piano ma con continuazione lo dice non vi ricordo se è qua o due ore e quindi praticamente con una volontà collettiva di arrivare a un determinato un determinato risultato cosa che non esiste tra di noi non esiste nei partiti non esiste a nessun posto la volontà collettiva di arrivare a un risultato che risultato? risultato come prima risultato cioè dovrebbe essere quello della pacificazione delle nazioni mentre adesso abbiamo la bomba atomica come caricola e quindi non so che cosa ci possiamo aspettare dal futuro così come la pensiamo adesso va bene e Giorgio se vuoi salutare visto che prima di digeri come? si erano tanti vabbè quando vi affronteremo il prossimo questa cosa sul nazionalsocialismo comunque la riprendiamo perché penso che sia da è la fase finale il distacco da Wagner è il distacco è un libro per chi fosse interessato le origini culturali del terzo Reich di George Moss in cui viene proprio ripercorso questo concetto del nazionalismo dove nasce e dove arriva rinnovo un consiglio ai più ad acquistare almeno un'opera quale forse